Ciao ragazzi! Non ho mai risposto che guardate, si vede anche il monkele. C'è veramente... Una cosa pazzesca! Incredibile! E ci sono anche verdi! Nooo! Wow! Questo è un vero porro! Ragazzi! Un vero porro! Nooo! Che bello! È un vero porro! Non è un vero porro! Un vero porro! Da un vero porro! Perché? Un vero porro! Un vero porro! Guardate ragazzi! quando si gioca il bascet? bascetball 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 qui sono molto organizzati molto organizzati guardate ragazzi guardate questi alb questi bambini che meravigliosi che meravigliosi guardate ragazzi qui c'è il cuore fresco guardate come questo incredibile guardate un pane con un'attività guardate guardate Sì, si, si. Ah, sì, si, 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 si. Ti anche faccio un selfie? Sì, si. Sì, si, si, si. Ah, si, si. Sì, si, si, si. Different species. Plum. Ok, sana. Che qua i. Coconut wine. Yes, di coconut wine. This is coconut wine. Coconut wine. Spine con? Let's keep on drunk. I found you, yeah. Guardate ragazzi. è un paese super speciale in montagna che è l'esplicitazione con le parole devi venire e vedere, perché nel video puoi vedere cose sai che ci sono persone che solo guardano la televisione quindi puoi andare e prendere il video con questi buoni paesi è un paese molto bello un paese molto bello guardare guardare grazie, grazie una un po' un po' e un po' è paradis in the pool so you must say thank you to auntie thank you auntie no this is the owner ah yes thank you thank you I will take your picture so come auntie now we come back to Chiru because Chiru wake up so now we start to cry Chiru start to cry guardate ragazzi here is the dragon guardate qua ok welcome to this place that you can go to the pool also here there is a back of the monkey mini falls adventure the mountain the mountain river but we go to the ground and the a che è il primo la città la città la città è la città la città la città Sì, non c'è ancora qua Ah Non c'è ma l'altro, non c'è ora di Apun Ma ora di Apun Ma ora di Napoli Ma ora di Napoli Ah Ma ora di Napoli Ma ora di Napoli Ok 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 Ma ora di Napoli Ok, ora è ora Per il mio francesco Il mio solcante Cosa 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 ciao ragazzi per continuare questo video dovete avere un bello per visitare un buon food 6.50 euro 6.50 euro sano per coppietarne unaata per comunicare e la fine, come vas sto penando sicché allo spesso questo è quello quando lo so sono state sono state ora oh è lato non è il giuro Non è meglio è questo non è così Perfetto 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 Perfetto